Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video ed oggi amici miei come potete vedere ci troviamo sempre qui su Skyrim prontissimi per andare a vedere un qualcosa di veramente spettacolare nel video di oggi un qualcosa che forse sarà utile a molti di voi ma allo stesso tempo molto probabilmente non tutti potranno replicare quello che state per vedere prima di tutto alziamoci salutiamo la nostra carissima e bellissima Halam con cui sono stato qui e passato una bella mattinata mi ha raccontato un po' delle sue vicende dei suoi piccoli racconti amorosi ma ora amica mia ti devo salutare perché ho ben altro da fare salve Lucia è pieno di bambini qui anche Mila Valencia sì sono un alchimista guardia di Wightran da cosa l'hai capito dal mio berretto da cuoco praticamente la guardia ha un po' anticipato quello che faremo nel video andremo a creare una pozione in realtà effettivamente è un veleno perché noi saremo in grado di uccidere dopo questo video qualsiasi nemico in un singolo colpo prima però di iniziare come sempre vi ricordo di lasciare un like, un commento di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto se state apprezzando i miei video ma più che altro se apprezzate il bellissimo vestito molto elegante di Nazim e attivate la campanellina in modo tale da non perdervi nessun video a questo punto con i bambini che ci stanno praticamente derubando i soldi dalle tasche dobbiamo andare a recuperare una persona ci servirà un compagno e stiamo parlando della nostra bellissima genassa per quale motivo ci servirà lo scoprirete a breve eccola qui al lume di candela con la sua bellissima zucca parliamo con lei e giustamente dobbiamo pagare nuovamente i 500 pezzi d'oro la nostra amica ha un prezzo abbastanza elevato portiamola con noi e andiamo ora a fare un bel trucchetto dobbiamo andare a vedere gli ingredienti che ingredienti ci servono per fare la nostra pozione andiamo subito a vederli insieme andiamo quindi su oggetti ingredienti e io già l'ho preparati allora abbiamo un cuore umano cuore umano che si può trovare tranquillamente dai falmer e dai vampiri poi abbiamo il ranuncolo un fungo comune praticamente in tutte le grotte soprattutto quelle poco illuminate comunque potete trovarli nella caverna ombre verde l'ultimo ingrediente invece il più raro il più difficile da avere è la radice di Jarrin molti di voi riconosceranno questo ingrediente lo si può ottenere solamente in un modo attraverso la quest di Astrid della confraternita oscura nella quale ci consegnerà questa radice per eliminare un imperatore la missione ci darà poi anche la possibilità effettivamente il consiglio che ho sempre dato di non utilizzare questa radice per eliminare l'obiettivo perché è l'unico modo per ottenere questo oggetto non avremo nessun'altra occasione per recuperarlo quindi non vale la pena di consumarlo non ci sarà neanche la possibilità di coltivare questa radice l'unico modo per averne altri è sfruttare il trucchetto del duplica oggetto di cui già anche qui ho fatto un video al massimo ve lo lascio nelle schede ed è il motivo per cui abbiamo bisogno di un fedele compagno un'altra cosa però prima di iniziare che vi consiglio di avere è il potere, non so se ve lo ricordate l'abbiamo fatto anche qui in un video la fortuna di Cinderion perché abbiamo bisogno di questo effetto attivo? perché ci darà una probabilità del 25% di creare una pozione duplicata quando usiamo l'abilità di Alchimia questo molto utile perché così abbiamo la possibilità appunto per come dice l'effetto di avere due veleni anziché uno un'altra cosa da tenere assolutamente in considerazione è il perk su Alchimia veleno concentrato ci darà la possibilità di applicare all'arma il veleno che durerà però per due colpi quindi fatto questa premessa e avervi mostrato le cose di cui abbiamo bisogno andiamo a svolgere il duplica oggetti e poi possiamo finalmente andare a creare il nostro veleno allora il consiglio che posso darvi è mettervi in questa posizione esatta cos'è che dobbiamo fare? ve lo spiego in breve ripeto al massimo andate a vedere il video completo andiamo sui nostri ingredienti e dobbiamo semplicemente buttarli a terra mi raccomando non li dovete buttare a gruppi ma uno alla volta quindi andiamo a buttare i vari cuori le tre radici di Nirn e i sette ranuncolo come vi dicevo in questo caso ne abbiamo sette il gioco ci dirà di scegliere la quantità che dobbiamo buttare a terra ed è quello che vi ho detto poco fa non buttatele tutti insieme ma sempre uno alla volta quindi ne mettete uno ne mettiamo un altro e poi gli altri li buttate uno alla volta una volta che gli oggetti saranno tutti quanti a terra parlate con Genassa gli dite di aspettare qui riparlate con lei e gli dite di fare qualcosa per voi mi raccomando attivate prima il comando che deve rimanere lì ferma cos'è che dovete fare? dovete cliccare su ogni oggetto e lei li recupererà li prenderà tutti quanti una volta che ha preso tutto voi dovete semplicemente uscire dalla porta in questo caso di Wightran rientrare immediatamente nella città in questo caso una volta dentro Genassa non vi seguirà perché gli avete detto di aspettare qui e guardate un po' ci saranno nuovamente tutti gli oggetti a terra e allo stesso modo però guardate un po' nell'inventario del vostro personaggio avrà gli oggetti che gli avete fatto raccogliere quindi non vi resta che recuperarli tutti quanti sia quelli dal vostro compagno e sia giustamente quelli che stanno a terra una volta che avete duplicato tutti i vostri bellissimi oggetti questo trucchetto lo potete utilizzare per qualsiasi cosa possiamo dire alla nostra amica che non ci serve più il suo aiuto e andare finalmente a creare il veleno più potente di tutti possiamo farlo attraverso il laboratorio d'alchimia della nostra gentilissima Arcadia metterci comodi comodi andare su ingredienti selezionare il cuore umano le radici di Jarrin e il ranuncolo creiamo il nostro veleno ed ecco a voi intanto tutti gli effetti che avrà la nostra macchina da guerra la nostra macchina mortale andiamo a leggere insieme i vari effetti ah volevo dirvi un'altra cosa me ne stavo dimenticando per aumentare l'effetto del veleno potete come ho fatto io avere un intero equipaggiamento che va a migliorare l'alchimia in questo preciso caso io ho l'elmo la collana l'anello e i guanti che mi stanno dando 25% in più di alchimia quindi andremo a migliorare notevolmente gli effetti in questo caso del nostro veleno però ora non perdiamo altro tempo andiamo a leggere infligge 5999 punti di danno da veleno riduce la rigenerazione della magica del bersaglio del 100% per 150 secondi creature e persone di livello 24 inferiore attaccheranno chiunque nelle vicinanze per 10 secondi prosciuga la magica del bersaglio di 90 punti e prosciuga il vigore del bersaglio di 90 punti devastante questo veleno ora io ne creerò un po' e poi andremo a vedere come funziona più che altro se funziona sopra i vari nemici come arma per l'esperimento utilizzeremo il mio bellissimo coltellino con i suoi 15 di danno andiamo quindi su pozioni prendiamo il nostro veleno di danneggia salute ne abbiamo 7 applichiamolo sul coltellino e siamo pronti di andare a sfruttare questo veleno micidiale sul gigante come vedete è shottato ci dirà che il gigante è troppo potente ma morirà sotto i colpi del nostro bellissimo coltellino e il potente veleno come avete visto abbiamo avuto la possibilità di infliggere due colpi prima che l'effetto svanisca grazie appunto l'abbiamo visto prima al perk veleno concentrato ripeto è un qualcosa di molto utile intanto il mammut si è arrabbiato e dice di attaccarci noi attiviamo un altro veleno utilizziamolo sulla piccola bestia e guardate un po' la vita che praticamente viene devastata ora il coltellino non ha nessun effetto provo ad attaccare il mammut guardate che l'arma non fa praticamente danno senza il veleno questo vi fa capire quanto effettivamente la pozione che abbiamo creato è devastante riapplichiamo il veleno uccidiamo anche quest'altro mammut giustamente non potevamo non provarlo su un drago quindi siamo all'altare di skyborne pronte ad affrontare questa creatura già ho avvelenato il mio coltellino un drago leggendario proviamo ad avvicinarci tiriamo il colpo e come vedete la vita prosciugata dall'effetto del nostro veleno nessuna creatura intanto qui ci stiamo baggando dentro i resti del drago leggendario dicevo nessuna creatura può contrastare questo veleno proviamo nuovamente ecco lì il nostro drago voglio farvi dire una cosa proviamo ad attaccarlo con il coltellino senza veleno guardate il danno è inesistente andiamo però ora su oggetti pozioni veleno danneggia salute applichiamolo e facciamo un colpo guardate qui la vita che se ne va giù che è una bellezza e il povero drago leggendario che non è in grado di sostenere questi attacchi possiamo dire di essere soddisfatti di questo esperimento nel creare la pozione il veleno più forte di tutto il gioco che ci permette come avete visto di uccidere qualsiasi creatura in skyrim io posso concludere in mezzo a tutti questi resti questi teschi scheletri il video di oggi fatemi sapere mi raccomando se eravate a conoscenza di questo veleno io vi ringrazio di cuore per il supporto come sempre vi ricordo di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao